Stanotte il prezzo di bitcoin ha fatto un vero e proprio tonfo, guardate qua, ieri sera era circa 43.000 dollari, poi già nel corso della serata era sceso fino a 42.000, in serata aveva fatto un primo piccolo tonfo verso 41.000, che poi era proseguito fino a 40.000, poi era leggermente risalito e ritornato giù e poi a un certo punto ha fatto il tonfo finale, il primo sotto i 40.000 e poi addirittura fino a 38.000 dollari, poi in qualche modo sembra essersi stabilizzato. Tenete presente che questa quota 38.000 dollari è quella di cui vi parlavo in questo mio precedente video, di cui vi metto il link in descrizione, e che era il bottom, cioè il punto minimo, ipotizzato da Mike Novogratz. Quindi in questo momento la discesa del prezzo di bitcoin si sarebbe fermata proprio su questo bottom, ipotizzato diversi giorni fa da Mike Novogratz. Però attenzione perché l'evoluzione è ancora in corso. Infatti come vi dicevo ieri in questo mio altro video del secondo canale YouTube, vi metto il link in descrizione, c'erano già dei segnali abbastanza chiari del fatto che in borsa avrebbero potuto esserci dei movimenti, più o meno su tutte le borse. Cioè in altre parole che sarebbe aumentata la volatilità e in effetti è quello che è accaduto stanotte. Il fatto è che la volatilità questa notte c'è stata un po' su tutti i mercati, in particolare sui rendimenti dei titoli di Stato americano a 10 anni, US 10Y, vi metto il link in descrizione, a cui in qualche modo il prezzo di bitcoin sembra essere correlato, per lo meno è da giugno 2020 che si muovono spesso insieme. Infatti stanotte come vedete questo rendimento è crollato. Ieri praticamente alle 19 ore italiana era arrivato a 1,844%, ma già in partire dalla serata aveva iniziato a scendere. Questa discesa qua corrisponde a questa discesa di bitcoin, praticamente la stessa. Poi in realtà c'è stato un vero e proprio salto, che però corrisponde al fatto che i mercati avevano chiuso e poi riaperto, perché avevano chiuso alle 23.30 e riaperto alle 4.50. questo, questo calo, questo forte calo, corrisponde a quello che è accaduto però appunto qua durante la fase di maggior calo di questa notte del prezzo di bitcoin. Quindi in questa notte l'andamento del prezzo di bitcoin ha seguito quello dei rendimenti di titoli di Stato americano a 10 anni, come fa spesso. E anche il dollaro americano questa notte ha fatto qualcosa di simile, perché guardate, ieri sera era in risalita, poi piano piano ha iniziato una discesa che sempre attorno alle 4 di questa mattina si è trasformato in un tonfo. Per carità, il dollaro americano se lo andiamo a vedere su un periodo più lungo, tipo a un mese, vediamo che è più o meno sempre agli stessi livelli, anzi è stato decisamente più basso il 14 gennaio, non è la stessa cosa per bitcoin, però dovete sapere che il prezzo di bitcoin ultimamente tende a seguire più i rendimenti dei titoli di Stato americano che non il dollaro, quindi ha senso prendere come riferimento il dollaro solo sul breve periodo. L'oro invece questa notte è salito, come vedete, chiaramente dopo le 2 è salito. Tra l'altro è interessante perché l'oro è un po' di giorni in realtà che sale. Guardate che roba, questo era il 19, questo è quello che è successo il 19 e poi è rimasto molto alto perché in effetti ci sono timori di una stretta monetaria. E il calo di questa notte in realtà c'è stato anche sul Nasdaq, però tenete presente che il Nasdaq alle 22 ha chiuso, alle 22 ore italiane e quindi vediamo solo la prima parte della discesa, cioè questa, quello che è successo dopo invece sul Nasdaq non si è riversato, non si è verificato perché era chiuso. Ancora una cosa, nelle ultime 24 ore tra le criptovalute a maggior capitalizzazione di mercato bitcoin è quella che perde di meno, tranne terra che perde ancora di meno perché probabilmente le altre hanno sofferto un po' di più. Quindi i problemi di questa notte di bitcoin non sono problemi di bitcoin ma sono problemi che ci sono un po' su tutti i mercati finanziari e che su bitcoin hanno avuto l'effetto che vi ho mostrato. Un effetto però molto simile a quello che hanno avuto anche su altri asset in particolare sul rendimento dei titoli di Stato americani. E come vi dicevo ieri nel mio precedente video sul secondo canale YouTube è proprio che sembra sia iniziata una nuova fase di volatilità sui mercati finanziari e quindi possiamo aspettarci alti e bassi, crescite e cali anche molto repentini perché la situazione sta cambiando, in qualche modo sta evolvendo per adattarsi ad una nuova normalità perché il periodo pandemico con la Fed che aveva una politica monetaria io direi sfrenata, esageratamente espansiva è finito e quindi adesso si entra in un nuovo periodo in cui la politica monetaria della Fed diventa prima sempre meno espansiva e poi forse addirittura restrittiva e quindi i mercati si adatteranno modificandosi, cambiando, evolvendo e noi stiamo vedendo questa evoluzione in corso. Badate che volatilità significa sia possibilità di discesa sia possibilità di crescita. Io vi consiglio per essere aggiornati quasi in tempo reale su ciò che avviene sui mercati finanziari di seguirmi su Twitter, vi metto il link in descrizione perché io lì pubblico moltissime notizie appena le trovo. Un saluto, ciao!